Fare l'amministratore è un lavoro di grande responsabilità. Ci vuole pazienza per gestire i contenziosi, competenza nel trovare sempre una soluzione per tutto e nell'accertarsi che l'immobile goda sempre di buona salute. Ma quando si tratta di seguire sinistri e polizze assicurative dei condomini in gestione, che gran mal di testa, vero? Per mettere fine alle tue emicranie non serve nessuna pillola. La soluzione si chiama Assi Fabbricati, il tuo nuovo supporto nella gestione delle polizze. Con Assi Fabbricati avrai a disposizione un team di consulenti esperti in tema di polizze fabbricati, dalla perizia preliminare fino alla stesura del migliore preventivo per la sicurezza dei tuoi condomini. Ma non solo. Grazie ad Assi Fabbricati avrai anche accesso a un portale online per gestire le polizze dei vari fabbricati, scadenze, sinistri aperti, quietanze di pagamento. Ed è tutto gratuito. Visita il sito www.assifabbricati.it e contattaci subito per ulteriori informazioni. Assi Fabbricati. Garanzie ed efficienza assicurate.